Un corso che si intitola oltre i 101 desideri potrebbe intitolarsi anche in un altro modo tutto sommato. Una parte potrebbe intitolarsi contro i tuoi desideri. Chi è che si oppone alla tua capacità di desiderare? Ti viene in mente qualche persona? Probabilmente sono quelle giuste. E poi cos'è che si oppone alla tua capacità di desiderare? Ti viene in mente qualcosa? Forse no lì per lì. No. Perché non ti viene in mente? Perché sono misteri molto profondi, sono shock profondi, sono traumi terribili che ti bloccano, che ti paralizzano in quel momento geniale, creativo, che è la produzione dei desideri. Chi è che ti ha bloccato? Cos'è che ti sta bloccando? Come fare con chi ti ha bloccato? Perdonarlo? Distruggerlo? Come fare con quello che ti sta bloccando? Affrontarlo, combatterlo, lottare, annientarlo oppure trasformarlo da nemico in alleato. Questa è una prospettiva emozionantissima, che è quella di cui parleremo.